bene ragazzi buongiorno oggi siamo in compagnia di una audi a4 b9 andremo a installare il carplay ovviamente ragazzi qui su questa autovettura è stato fatto uno sblocco perché questa è un'autovettura con sistema delphi mhs2 quindi andiamo dentro vi faccio vedere il sistema ovviamente il video l'ho già pubblicato due anni fa e un altro video recente lo metto in descrizione sotto ragazzi chi vuole lo va a vedere c'è lo sblocco con le mappe autovelox aggiornati 2024 andiamo subito a vedere la macchina dentro ok ragazzi entrati nella macchina andiamo a vedere subito le licenze e lo sblocco ma anche il tipo di sistema che ha questa autovettura quindi come sempre nav sopra media sotto per 3-4 secondi informazione versione ecco qui mhs2 torniamo indietro andiamo a vedere le licenze quindi sistema codici di abilitazione ecco qua tutto legale questi ovviamente sono bluetooth comandi a vocale carplay android auto mappe eccole qua le mappe tutto legale perfetto quindi ora l'unica cosa che ci manca su questa vettura dobbiamo uscire sempre solita combinazione di tasti andiamo su menu quello che ci manca è il carplay quindi dovremmo adesso codificare anzi dopo lo codifichiamo per far uscire l'icona del carplay è chiaro ragazzi che una volta fatto la codifica bisogna cambiare la scarpetta del carplay android auto altrimenti non funziona ok quindi andiamo a vedere cosa questa autovettura ha di originale attualmente ha questo charge only ok only charge quindi non è possibile mettere il cavetto e poi il cellulare ecco ragazzi quello che vi serve quindi questo con questo codice ci sono anche altri modelli questo è quello più nuovo con lo sbc ok quindi ha due cavi lvds quindi può anche essere sdoppiato mettere quello nella parte anteriore se uno volesse però diciamo non è necessario e poi nient'altro questo qui funziona a 12 volt quindi attenzione all'alimentazione adesso andiamo a installarlo ok ragazzi per andare a smontare il tunnel centrale per montare la scarpetta questa qui e ovviamente passare questo cablaggio è necessario smontare questa parte di tunnel e arrivare qua dietro ovviamente dovremmo tirare anche il cassetto portoggetti ok quindi andiamo a smontare con calma qui abbiamo una vite qui abbiamo una vite una torx e l'altra poi è proprio sotto al cambio qui ok e poi piano piano leviamo tutto ecco qui la torx che andremo a levare quindi una due e poi andiamo a a staccare piano piano tutto aspetta 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 Sganciamo il connettore. Ecco qua. E questo è fatto. Perfetto. Ora rimane da sganciare questa vite qui. E adesso questo qua. Un altro. Ecco il pezzo. La console centrale. Ok? Ok. Leviamo anche la parte del climatronic affinché andiamo a pescare. Ecco qui. La scarpetta da una parte posteriore. Ok? Qua troveremo anche il sensore del condotto posteriore. Andiamo a scollegare la scarpetta. Quella vecchia. Ok? Ok. Ecco la scarpetta. Questa qui che ha due gancetti laterali. E viene da dietro. Ok? Questo è il codice. Charge only. Ok. Mettiamo la nuova scarpetta. La scarpetta. Perfetto. Questo cavo ovviamente non serve più a niente. Ora lo nastriamo e lo mettiamo da parte. Ok. Abbiamo passato i fili. Ecco di qua. Tutti e due. Li abbiamo fatti passare nella parte anteriore. Eccoli qua. Ok? Ora liberiamo e continuiamo a passarli sotto per arrivare fino all'MMI. Quindi agganciamo il connettore nero dell'alimentazione. Più che altro questo qua è per la UX. Perfetto. Sì, AUX e alimentazione fa tutto questo qua. Ok. E poi agganciamo il connettore verde. Ok. E le VDS in questo qui. Ecco qua. Ora ci tiriamo piano piano i fili. Vai, tira. Ok, quello è arrivato. Anche il cavo fa. E le VDS. Ok, basta. Mettiamo una piccola fascetta qui. Bene. Qui abbiamo finito. Abbiamo rimontato, ok, questo piccolo deflettore qua condotto, ok, per l'aria. E adesso rimettiamo la parte della bocchetta d'aria posteriore. Ok. Così. La mettiamo qui. E poi la fissiamo successivamente. Ok, ragazzi. Adesso smontiamo il cassetto portoggetti. Quindi andiamo di qua. Apriamo questo, dove troveremo il perno a dover levare il cassetto. Questa è la stessa configurazione dell'Audio A3 EQ2, uguale, identica. Ok. Per mollare il cassetto, quindi abbiamo detto che ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, e due, sei, sotto e sette. Ecco qua il cassetto. Quindi dobbiamo scollegare questo. Ecco qua. Adesso possiamo rimuovere l'MMI. Ecco qua. Ok, Mib smontato. Quindi di qua prenderemo l'alimentazione e di qua invece andremo a mettere il cavo LVDS, quello proprio per la scarpetta USB. Ok, ragazzi, abbiamo fatto passare il cavo di qui, qua dentro, e l'abbiamo fatto uscire qui, ecco, aiutandoci con una sonda. Adesso iniziamo a rimontare, vediamo se tutto va bene. Ok, abbiamo fissato questa parte, adesso andiamo a collegare all'MMI. Spingiamo quello verde che non ci servirà più, perché avremo quello nuovo. Ecco qua. E poi abbiamo l'alimentazione da dover dare. Ok? In questo caso, essendo 12 volt, la prenderemo direttamente di qua, oppure il positivo lo possiamo andare a prendere direttamente da sotto la fusibiliera. Ok, ragazzi, abbiamo connesso. Adesso dobbiamo mettere e rimontare il tutto, quindi il supporto dell'MMI, tutto quanto. Quindi rimontiamo l'MMI e tutti i cablaggi, compreso quello nuovo e le VDS per quanto riguarda il CarPlay. Ok, andiamo a rimontare e poi faremo una prova. Ok, ragazzi, abbiamo montato l'MMI, ok? Quindi andiamo adesso a montare la plancia, ok? E quindi collegando tutti i connettori e andiamo a fare una prova prima di fissare il tutto. Ok, questo. Poi viene questo. Questo viene alla fine, questo viene qua. Ok. Ok, ragazzi, non abbiamo ancora codificato. Vediamo se funziona almeno la parte di ricarica. Aspettate. Ecco qua. Per il momento è soltanto ricarica, quindi funziona perfettamente, il collegamento è andato a buon fine. Adesso ci spostiamo sul computer per fare la codifica. Ragazzi, ovviamente per la codifica vi rimando sempre al video sotto in descrizione, in quanto questo, essendo un'MHS2, potete scaricare la patch in descrizione, ok? E fare l'attivazione, così come sbloccare a vita il sistema, quindi CarPlay, Android Auto, mappe, autovelox, tutto in descrizione. Ok, quindi, ma soltanto per gli abbonati. Ok, ragazzi, ecco qui, siamo su vcds e qui avete la codifica. Quindi, ragazzi, è inutile che la copiate perché tanto è in descrizione a questo video. Quindi vi lascio il file e voi l'andate, lo stampate e poi codificate. Ok, ecco qui l'interfaccia presente. Andiamo a collegare. Diamo il consenso. Il cellulare sta ricaricando. Android Auto l'ha visto. Perfetto. Continua. Ok. Perfetto. Una scheggia. Ok, ragazzi, adesso andiamo a finalizzare il lavoro e andiamo a chiudere tutte le plastiche. Ok, ragazzi. Ok. 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 Ok.